Il finanziamento che corona questo percorso che riguarda l'intera area metropolitana della città di Palermo con 198 milioni di investimenti, con 22 comuni interessati in questa prima fase, con 49 progetti e con altri 28 comuni interessati, con altri 51 progetti che finiranno con il realizzare complessivamente un intervento di grande generazione urbana. Partiamo dalla costa sud di Palermo, interamente riqualificata, il meraviglioso lungomare, la zona La Bandite, il parco Librograssi ad Acqua dei Corsali, continuando con la batteria di collegamento in un'autostrada, ma anche Floriopoli, questa importante struttura, la petrolizzazione del centro storico di Carini, la realizzazione a bagheria di impianti di forte rigenerazione urbana, tutti comunque a consumo di suolo zero, così come a Piano degli Albanesi, impianti per utilizzo sportivo e di accoglienza del magnifico lago di Piano degli Albanesi. È veramente una grande operazione, una grande operazione che dovrà essere completata, con un crono programma accolatamente seguito che prevede la conclusione delle opere il 31 marzo del 2026. La città metropolitana interrogata risponde, la città metropolitana c'è ed è il punto d'incontro di tante realtà e di tanti sindaci che esprimono i desideri e i diritti di sviluppo del territorio metropolitano.